Siamo nel mezzo della seconda ondata della pandemia, nel mezzo di un nuovo sebbene meno forte lockdown e stiamo per votare uno scostamento di bilancio di 8 miliardi in larga misura per misure economiche e di questi meno di un miliardo è dedicato specificamente alla sanità. In tutto questo la domanda che non possiamo non porci è perché l'Italia non ha utilizzato i 37 miliardi della linea pandemica del MES per spese sanitarie dirette e indirette. Se vi avessimo fatto ricorso, un ricorso possibile già nel maggio del 2020 avremmo potuto rafforzare enormemente la nostra sanità, il nostro sistema di prevenzione, il nostro sistema di tracciamento, le nostre terapie intensive, tutte cose che si potevano fare e che solo l'ideologia di alcuni partiti anti-europei hanno impedito. L'Unione Europea ci ha dato uno strumento per tutelare la nostra salute nella pandemia che non abbiamo usato. È una responsabilità gravissima del governo e anche delle forze politiche dell'opposizione che hanno contribuito a impedire questa scelta.